Presidente, si aspetta un passo indietro della sua viceminocchia adesso? Io vi aspetto la conferma del centro-lecchio. Dagli alleati ci sono state ulteriori rassicurazioni? Io guardi, dagli alleati ho letto le dichiarazioni che sono state rese e che tutti indicavano in me un possibile candidato, quindi oltre non posso sapere.